Nel momento in cui è venuta fuori questa notizia, che all'altro dice che sarà stata riprovata quest'anno. Dopodiché noi arriviamo in fronte basso, siamo stati a Roma, abbiamo anche operato, cioè ci siamo imbattuti in una gestione dilettantesca del governo su questa materia. Perché un'operazione che si poteva fare in 48 ore, l'hanno fatta dopo 48 ore. Non le dico cosa è successo nella mia città, la ventena, la negazione, l'impossibilità per un sindaco della Repubblica di incontrare un ministro.